Con Monti ci siamo sentiti diverse volte in questi giorni, continueremo a sentirci. Io dico che dobbiamo andare al di là di gioiosa Ionica, ci sono tante aree nel nostro paese in cui bisognerà costringere la politica, l'istituzione da una parte, ma anche noi a creare delle condizioni costruite dal basso per offrire a tanti ragazzi la possibilità di poter vivere questi spazi in un modo intelligente, gioiosa, risigoni, ma ci sono tanti altri spazi che hanno bisogno di una presenza, di un impegno e che bello allora che mettiamo insieme queste nostre forze per promuoverle, non per coprire il vuoto che tocca ad altri assumersi, per favorire la pratica sportiva in tutte le pratiche dello sport nel nostro paese, per coinvolgere più ragazzi, per creare un fermento sociale diverso, ma noi faremo insieme la nostra parte, grazie alla Gazzetta. E magari tra 15 giorni Don Ciotti, direttore, possiamo ritornare in studio e fare già un primo bilancio e capire se la strada è quella giusta, quella che stiamo seguendo insieme. Intanto c'è ancora una curiosità da parte di Gianni Cervoio. C'è un'immagine che mi ha colpito moltissimo nel secondo servizio, Lucchetto e Catena, e non si gioca, è un'immagine che naturalmente induce al pessimismo, però questa è la realtà dei fatti, vorrei chiedere a Don Ciotti, quell'immagine vale più di mille parole, però le parole servono e servono parole di speranza, quanto veramente Don Ciotti crede sia possibile cambiare le cose, cioè invertire questa tendenza, fare un giro di boa, veramente affinché si possa tornare a sperare, a vedere proprio il calcio, ma lo sport in generale come un veicolo di scambio, di confronto civile, di crescita, di fratellanza. Bisogna fare in modo che non si metti il lucchetto a gioiosa perché si deve chiudere quel campo innanzitutto, quindi la politica si assume la propria parte, noi con la Gazzetta faremo la nostra. Secondo, bisogna fare di tutto, ci sono migliaia di ragazzi che hanno bisogno di trovare dei punti di riferimento nel nostro Paese, abbiamo una dispersione scolastica impressionante, condizioni di povertà, favoriamo almeno l'opportunità attraverso la pratica sportiva, il gioco. Io non posso dimenticare quando 48 anni fa ho cominciato sulla strada col gruppo Abele, è stato lo sport fatto con i poveri, con gli ultimi, nei quartieri, nelle carceri per i minorenni che hanno offerto un'opportunità di cambiamento, di stimolo, di crescita a tanti ragazzi. Terzo, mettiamoci tutti insieme, promuoviamo a Roma un momento di grande riflessione, l'abbiamo già proposta, associazione, gruppi, alla Federazione Calcio che ha accettato, mettiamo la Gazzetta, mettiamo altre associazioni per riflettere insieme che cosa fare rispetto a questi episodi e a queste violenze. Cambiare è possibile, uniamo le nostre forze e le nostre energie. Lei che ha portato via tantissimi ragazzi da strade pericolose, che li ha allontanati dalla droga, dall'alcol, quale pensa possa essere il ruolo della scuola? Ma la scuola è fondamentale, una scuola che non deve perdere per strada i ragazzi, siamo agli ultimi posti in Europa per la dispersione scolastica, questo non vuol dire la stima, la riconoscenza per quanti sono impegnati e stanno facendo delle cose positive anche da Roma, al Ministero, però c'è una distanza abissale, stiamo perdendo per strada migliaia di ragazzi, ecco allora l'importanza di questi campetti, di questi spazi, di questi progetti, uniamo le forze, ci sono delle belle esperienze, io vorrei far emergere il positivo in questo momento perché ci sono progetti del Ministero dell'Istruzione, progetti della Federazione del Calcio, progetti del CONI, di molte associazioni, uniamo di più le nostre forze per incidere, per graffiare, c'è bisogno di questo, di più rispetto ai nostri ragazzi. Don Ciotti, noi siamo ovviamente anche a completa disposizione, lo abbiamo anche fatto in passato con il doping, ad esempio un tema a lei molto caro riguardo alle mafie, su quello che riescono a incassare, quindi siamo a disposizione di Libera, del gruppo Abele. Direttore Monti, prima di sentire una considerazione di Massimo Marazzina, intanto non so se lei è d'accordo con me ma credo che Don Ciotti sarebbe un eccellente allenatore perché dalla panchina si farebbe senz'altro sentire e poi volevo che rispondesse, riprendesse anche lei questa funzione educativa, ciascuno per le proprie competenze, che ha anche la Gazzetta, inutile nascondere che è il giornale quotidiano sportivo più venduto in Italia, letto da tantissimi giovani, che ha anche una responsabilità educativa, formativa. Dunque, oltre che essere un ottimo allenatore, lo è da 46 anni, da quando il Cardinale Pellegrino gli affidò la sua prima parrocchia dicendogli, credo all'incirca la tua parrocchia è la strada perché lì non si insegna, lì si impara e credo che abbia imparato e poi insegnato a noi tantissime cose. La Gazzetta, ogni mattina e ogni sera, quando si imposta e poi si chiude il giornale o si cura il sito internet, ci si rende conto di grazia di volume di fuoco allo sport e soprattutto al calcio e di quanti problemi anche morali pone il modo con cui noi, tutti noi, raccontiamo, siamo costretti a raccontare il calcio. Il calcio è un mondo e non può essere, credo, altrimenti perché non si può andare contro la modernità, ci piaccia o non ci piaccia, è un mondo pieno di quattrini ma è anche un mondo pieno di distorsioni dove ragazzi calciatori onestamente non forniscono un esempio di vita, forniscono tante volte l'esempio contrario. Allora è certo che c'è una grandissima responsabilità nel raccontare non solo la storia di Gioiosa Ionica, questo è evidente, viene persino facile essere d'accordo con Don Ciotti o essere tutti noi d'accordo con un'interpretazione dello sport più positiva, più alta. Il mestiere difficile è quello di non creare dei miti laddove non ci sono, di condurre la gente rispettando la passione e l'emozione che lo sport ovviamente ci dà ieri sera il duello Ronaldo-Ibra, perché no, aveva qualcosa di omerico, di straordinario, però di ricordare sempre quando lo raccontiamo che un conto è lo spettacolo e un conto è lo sport che sta dentro lo spettacolo e quel nucleo valoriale lì va preservato in ogni momento e riaffermato anche di fronte ai campioni e ai potentati dello sport. Se non c'è quel tipo di valore che Don Ciotti ci ricorda, francamente è una grande bellissimo circo farlocco. Don Ciotti, le chiedo un'opinione sulle parole del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega per lo sport. Graziano Del Rio, durante il question time alla Camera ha detto contro la violenza negli stadi vanno usate insieme la repressione, le misure di prevenzione e dialogo con le tifoserie. È d'accordo? Aggiungerei il grande lavoro di prevenzione, i percorsi educativi e non dimenticarci che la cultura che dà la sveglia alle coscienze e quindi creerà anche delle condizioni di maggiore informazione, conoscenza, accompagnare le persone, il lavoro con le scuole, aiutare i ragazzi a prendere coscienza di questi problemi, di viverli non sentito dire e quindi una riflessione molto più ampia. Certamente il mondo del calcio, il mondo dello sport non è un mondo a sé, bisogna che la giustizia faccia il suo percorso, ci vuole della fermezza, ma ci vuole soprattutto un grande investimento culturale, educativo e preventivo in questo momento. Ed è per quello che serve il campo confiscato, perché si parte da questi bambini che poi diventeranno grandi, che andranno allo stadio e si comporteranno bene, speriamo. Direttore, la Gazzetta dello Sport si contraddistingue sempre per titoli da prima pagina spumeggianti, se non altro che catturano molto l'attenzione. Vogliamo fare un titolo su questa vicenda? Le vie del pallone sono infinite, se non suono blasfemo e Don Ciotti me lo consente, le vie del pallone qualche volta sono infinite. Ottima sintesi direi.